Andiamo a vedere adesso due modalità che magari in un primo momento sono assolutamente ostiche, ma in realtà sono due modi per misurare le performance di un'impresa e che sono quelle che almeno io utilizzo, nel senso che io la prima cosa che faccio è quando guardo il bilancio dell'azienda, ci sono delle piattaforme che vi aiutano a fare questo in maniera così automatica, se riesco ad accedere ve la faccio vedere, sì sono riuscito ad accedere, allora andiamo a prendere la Ferrari, allora io quando valuto un'azienda la prima cosa che faccio senza proprio pronti partenze via per capire con chi sto parlando, come se gli chiedessi la carta d'identità, vedete questo questo grafico? Vedete guru focus qua? La pagina? Ok perfetto. Allora, questa è una piattaforma che vi dà il quadro contabile di un'azienda, ovviamente non vi dà il bilancio come ve lo potreste aspettare voi, come l'abbiamo studiato noi, non so ricavi meno costi, ma vi fa una classificazione, questo è della Ferrari, allora vi dà qui un comando, vi dà un tassello che è la cosa più importante di tutti, che è il ROIC verso il WAC, il weighted average cost of capital ce lo siamo visti la volta scorsa, lo avete capito anche voi, il weighted average cost of capital è il costo del capitale aziendale, cioè quanti soldi io devo pagare di remunerazione sia agli azionisti che agli obbligazionisti, se gli obbligazionisti non esistono si tratta solo degli azionisti, come viene calcolato? Viene calcolato utilizzando la mia formula del capital asset pricing model per quanto riguarda il rendimento delle azioni e la mia formula banalissima del costo delle obbligazioni, quindi interessi che io pago a valore assoluto fratto valore dell'obbligazione moltiplicata meno 1 meno TC, dove TC è il corporate tax, corporate tax che in Italia sappiamo che l'IRES è il 24% più un 3,90% di IRAP, quindi siamo al 27,90%, quindi diciamo 1 meno 0,27,90% è il mio 1 meno TC moltiplicato il costo del debito, quindi quanto l'azienda deve pagare per remunerare gli azionisti e quanto l'azienda deve pagare per remunerare gli obbligazionisti, quindi il costo del capitale aziendale, weighted average cost of capital, dove weighted significa pesato, perché? Perché io lo vado a pesare per valore di mercato, ok? Quindi vi ricordate noi abbiamo V è il valore dell'azienda uguale a E che è il costo del capitale aziendale più di che è il debito, ok? Perché? Perché se io compro un'azienda dentro la pancia di cassetti io trovo i soldi che hanno incassato e mettendo debito, quindi io quando compro un'azienda pago E che è l'equity più di il debito, no? Come pago il debito? Sì, perché sono soldi che poi tra l'altro devo restituire, ma che sono dentro la pancia di nei cassetti dell'azienda c'è il debito, cioè l'azienda ha emesso un pezzo di casta con scritto obbligazione e le hanno dato in cambio dei soldi. Questi soldi li ha messi nei cassetti dell'azienda, ok? E devono essere lì perché poi io quando arriverò a scadenza, alla redemption del mio bond, dovrò ridare i soldi all'azionista, ok? Quindi questi valori devono essere valori di mercato e calcolo il weighted average cost of capital. Il concetto di weighted average cost of capital è un concetto come vi ho detto, di facile identificazione per voi che avete seguito il mio corso, perché semplicemente andate sul sito di Damodaran o Damodaran, come dirsi voglia, e c'è la tabella, andate a vedere il vostro settore operativo, alberghiero piuttosto che infrastrutture, piuttosto che software, piuttosto che bla bla bla, quello che vi pare a voi, non voglio saperlo. Andate a vedere, è indicato il cost of equity, cost of debt, weighted average cost of capital, ok? E medio del settore, quindi voi vi prendete quel numerino lì e lo andate a mettere nel vostro WAC. Allora, quel numerino che voi andate a vedere nel vostro WAC, cioè il cost of capital, cost of equity, è un numerino che in realtà in un'azienda non necessariamente è evidente, che non sono gli utili, cioè è una misura molto più sofisticata di calcolare quanto voi dovreste remunerare agli azionisti. Allora, voi pensate che io, ho la mia azienda idraulica di Alfonsine, ok? Io sono socio e sono dirigente. Allora io mi piglio il mio stipendio, mi prendo i miei 3.000 euro al mese da dirigente e mi prendo il mio stipendio da 3.000 euro al mese, più alla fine dell'anno mi imbosco un po' di nero e mi imbosco un po' di dividendi, ok? Non è una gran misura della graditività del mio lavoro, ok? Quando io vado a calcolare perché io sono in una situazione in cui quando vado a calcolare, a fare questi calcoli per vedere se le cose funzionano, io non prendo la misura di quello che io ex post prendo, mi metto in tasca dall'azienda. Io devo calcolare quello che teoricamente dovrei ricavare se fossi solo azionista, ok? Quindi quando io vado a calcolare il mio cost of equity, calcolato come ce lo siamo visti noi con il capital asset pricing model, in realtà vado a fare una valutazione molto più sofisticata di redditività, molto più elaborata, che non è una cosa ex post, cioè non è brutalmente quanti soldi mi sono messi nel portafoglio per comprarmi l'Harley Davis da Natale, è quanto io dovrei remunerare Tomasini o chi in un futuro sarà al posto di Tomasini, cioè è molto, se voi l'analizzate sotto il profilo filosofico, c'è una componente di rischio, no? Perché c'è il beta nel mio capital asset pricing model, c'è il mio risk free, quindi mi mette anche in relazione a quello che è la remunerazione del risk free, perché io potrei anche decidere che non mi conviene investire in un'azienda, perché ci sono stati periodi della storia d'Italia in cui le aziende non facevano progetti di investimento perché il BTP pagava il 10%, allora vai te a fare dei progetti di investimento quando il BTP paga il 10% e se sono un'azienda io ti saluto e gli dico bye bye, io compro il BTP, prendo il 10% perché mi devo stare a sbattere per andare a lavorare, è il famoso effetto di spiazzamento della spesa pubblica, no? Cioè quando ci sono tassi di interesse sui risk free troppo elevati. All'interno del capital asset pricing model, voi sapete che c'è RM, c'è il rendimento medio delle azioni di quel paese, delle azioni del mercato azionario, quindi il mercato del capital nel suo complesso, quindi all'interno del beta sui BTP possiamo avere una leva, no? Se sei un operatore, la leva la danno se tu hai credito, la leva è il credito, no? Se tu come l'azienda delle caldaie di Alfonsine sei proprietario di una villa a Rimini, qui fai dei festini d'estate, tu vai in banca e dici il collaterale vi do la mia villa e voi prestate alla mia azienda di caldaie 2 milioni di euro, la banca dà 2 milioni di euro all'azienda e tu stai facendo leva, no? Perché magari la villa ne vale 1,5, quella è una leva, ma fai una leva a tu. Vabbè, comunque. Quindi diciamo, quando voi andate a calcolare il weighted average cost of capital, il costo del capitale aziendale, state facendo un'operazione molto più sottile che andare a vedere quelli che sono i costi di quell'anno, ok?